La terra trema anche se si tratta di piccole scosse. Il primo sciame era iniziato il 29 agosto terminando nella notte, un secondo invece ha avuto inizio intorno alle 8 del 30 agosto, coinvolta la zona di Bronte, dove le scosse sono state avvertite maggiormente nel primo caso. Gli eventi si sono sviluppati su una ideale congiungente Bronte con il lago Pozzillo a gira, dunque tre comuni vicini, Regalbuto, Gagliano, Troina, Cesarò, Bronte, Maletto, Randazzo. Stando al posto sui social del Dipartimento regionale di protezione civile, le scosse erano di piccola magnitudo 2-3 fino ad un massimo di 3,5 con una profondità circa di 16-18 km, inferiore l'intensità del secondo sciame sismico di magnitudo 2. Sul fronte Bronte, Regalbuto, coinvolgendo sempre, così come precisa il Dipartimento regionale di protezione civile sui social, una ideale congiungente Bronte con il lago di Pozzillo a gira, comuni vicini, Regalbuto, Centuri, Pegagliano, Troina, Cesarò. Si tratta di terremoti compatibili con la tettonica della regione, si legge ancora, e sempre connessi alla collisione fra la placca africana e quella europea. Intanto sono stati allertati sindaci responsabili di protezione civile e associazioni di volontariato della zona dalla sala operativa Soris della regione siciliana, Dipartimento regionale di protezione civile, su disposizione del dirigente generale.